Vedi, sai cosa? E' come se le sigle, che non so il presone! Avevo quasi scritto Romina Falco, sbagliato, no, ho sbagliato, però no, va bene. Ditemi quando... Ok, vai! Vado a tutti gli amici di All Music, io sono molto, molto affezionata a All Music perché mi ha promesso che mi adotta a tutti gli effetti, quindi un bacio grande e che Dio vi benedica!